Brüller Landstrasse si va in città io voglio andare a fare il mio jogging in città sono matta mischio jogging con come si chiama guardate che bei campi stiamo avvicinandoci ci stiamo avvicinando al Duomo di Colonia se ben vedete laggiù questa è una zona stupenda che io vorrei venire a fare un vlog qui ma poi per infinita pigrizia non vengo mai dovrei parcheggiare qua sotto perché è veramente notevole qui c'è una torre ecco guardate che bella qui c'è il porto praticamente c'è il porto sul Reno ex porto sul Reno c'è il museo della cioccolata che è veramente molto bello e interessante io non ci sono mai stata cioè il camion si è fermato per farmi fare il vlog Lars di qualcosa ciao polizia ho mal di gola io amo Station Happy Station e adesso usciamo e ci troviamo direttamente in piazza del Duomo proprio non voglio far dondolare il coso ma non è molto facile qui c'è la settimana italiana vi faccio vedere torrone cioè il torrone che è qualcosa di tipicamente invernale natalizio qui c'è il torrone dalla regione di Bergamo vedete il torrone adesso vi faccio vedere qui siamo subito al Duomo e qui c'è la Mac Mac come cavolo si deve dire ancora non l'ho capito Mac da Douglas e qui ci ho lasciato un bel po' di soldini adesso il prossimo non so se oggi lo farò sta pazzia il prossimo rossetto che mi voglio comprare è Velvet Teddy però un uomo figaccione al massimo ogni tanto mi vengono ste idee di guardare risveglio dei sensi ogni tanto un uomo che avrà avuto la metà coi capelli biondi e gli occhiali scuri tipico tedesco ecco eccolo qua che è Lars eccoci 50% di sconti infatti voglio venire proprio qua sono andata apposta qui vi faccio vedere un attimo voglia di Garnier 3,95 euro lo prendo ne prendo due sono da Dend guardate che bello questo è uno aperto da pochissimo al centro vedete che meraviglia due piani ecco qui questo è un negozio di russo che si chiama peponclop questo uovo di di vetro è stato progettato dal famosissimo architetto Renzo Piano qua c'è una chiesa ma non mi dite che chiesa è e di là si va verso il centro solo che contro luce quindi è inutile spegniamo pure un'occhio allociuno gigantesco è 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 un'occhio allociuno gigantesco meno male così quelli ballano spesso viene con i soldi primo acquisto della vita dalla desiguale ragazzi troppo forte bellissimo questo negozio siamo in macchina mio marito mi è venuto a prendere stiamo tornando indietro stiamo tornando a casa io ho fatto un bel po' di passi tipo 10.000 sono girato tutto il centro in colonia si vede la luce all'uscita del tunnel il ponte verde che vedete lì è Severinbrück siamo al punto quasi di prima non so cosa inquadro i miei figli Lars che mi ha accompagnato e niente oh come è buona grazie a tutti Grazie a tutti